Dopo le due sgambate con Bagnese 15-0 e Victor San Marino 2-0, il Rimini affronta la Dinamo Tirana, formazione albanese della categoria superiore, allenata da Gigi Di Biagio. All'ottavo bella combinazione Sereni-Rosini-Laverone. Il tiro del capitano Biancorosso trova però sulla sua traiettoria la schiena di Rossetti. Al tredicesimo la Dinamo passa, sventagliata per Bardi, che tocca per Denison. Il numero 10 con un paio di finte trova lo spazio per il cross calibrato per il colpo di testa vincente di Caciorri. I pericoli per la difesa albanese arrivano tutti dall'auto di destra, quello di sinistra del Rimini. Al diciannovesimo la Verona allarga per Leoncini, che scappa via e serve Sereni. Assist per la battuta di Rosini. Sali para con una mano, poi completa il recupero. Al ventottesimo brecche di Pietrangeli, Tonnelli tocca per Rossetti, apertura elegante per Accursi, che si libera al tiro. Il suo sinistro è neutralizzato dal portiere della Dinamo. Al quarantesimo Bardi serve Marcu, che è contrastato da Rosini, non riesce a calciare con potenza. Al quarantaduesimo lancio di Laverone per Rossetti, che entra in area, cerca lo spazio per il cross, poi calcia sull'esterno della rete. Al quarantaquattresimo, Laverone si sistema il pallone e spara di destro. Sali si difende in due tempi. Al quarantaseiesimo, il tiro di Denison dal limite dell'area, non va lontano dal bersaglio. Al quarantottesimo, Sereni duetta con Leoncini e tenta la conclusione a giro. Sali c'è. Si va al riposo sull'1-0 per la squadra albanese. Si riparte ed è ancora Sereni ad avere una buona opportunità dopo una rubata di Lamesta. Sali si oppone, poi la difesa in qualche modo rinvia. Sono passati due minuti. Al sesto, il tiro di Bardi e uno zuccherino per Passador. Un giro di lancetta dopo, il numero 11 ci riprova. Questa volta la potenza c'è, la precisione no, sfera a fondo campo. Al diciottesimo, un passaggio sbagliato di Leoncini permette a Denison di presentarsi in area. Passare tra lo stesso Leoncini e Gorelli e calciare. È provvidenziale l'intervento di Allievi, che smorza il tiro, permettendo a Colombo di parare. Al trentunesimo, bella conclusione da fuori area di sinistro di Lamesta. Sali alza oltre alla traversa. Al quarantaduesimo, sul retropassaggio di testa di Allievi, Colombo un momento di indecisione. Gioni arriva così per primo sul pallone, assist per Danai, che spedisce a lato. Al quarantaseiesimo, corner di Lamesta per il colpo di testa di Gorelli, pallone fuori. Finisce 1-0 per la Dinamo Tirana.